ciao a tutti bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su thief simulator uno dei mille giochi simulativi dagli stessi distributori di car mechanic simulator e un sacco d'altri titoli qui simuleremo di essere dei ladri e quel classico gioco simulativo molto soft molto leggero con delle meccaniche interessanti ma altre meccaniche diciamo come quella di guida che sono un pochino così abbozzate diciamo quindi un po come la il tipo di guida di turist bar simulator piuttosto che della macchina intendo dire come un po come quella del furgone di di mai san mercari insomma e che cosa in che cosa consiste questo gioco beh questo gioco è un po anche come house flipper diciamo perché livelleremo il nostro personaggio e salendo di livello avremo modo di accedere a nuovi strumenti via via sempre più sofisticati lo scopo è quello di rubare all'interno di appartamenti anche lì sempre più sofisticati e rubare roba sempre più preziosa per poi a rivenderla al diciamo al tizio diciamo in città che il ricettatore che ce lo ce le acquista abbiamo anche modo di completare dal black bay delle richieste quindi abbiamo la possibilità di trovare degli oggetti specifici sul fu sul forum ruba punto lo abbiamo la possibilità di acquistare dei delle informazioni quindi e possiamo sapere magari la routine degli inquilini abbiamo la possibilità di capire se ci sono delle debolezze nel loro sistema di di sicurezza della staccionata rotta da cui possiamo entrare e così via e poi affitta ladro abbiamo la possibilità di accettare dei lavori in questo caso rubare un quadro rubiamolo al 110 di greenview street rubare un quadro e questo invece non ho ancora chiaro che cosa sia esattamente qua abbiamo la possibilità di dormire qui abbiamo il computer che poi andrà a sbloccarsi più avanti perché avremo modo di anche hackerare sistemi di sicurezza qui abbiamo il nostro inventario abbiamo le nostre abilità che possiamo andare a potenziare salendo di livello avendo dei punti da spendere abbiamo un punto rimanente quindi in questo caso possiamo andare a scegliere di valutare oggetti sul posto andare a migliorare la nostra abilità con le serrature abbiamo l'agilità aumentare lo zaino e fino ad arrivare al punto di avere magari due punti di abilità quindi aspetto per avere la possibilità di agire con l'elettronica quindi eliminare protezione di sicurezza in questo caso invece abbiamo anche la possibilità di questo rimuovere parti d'auto e rubare auto senza allarme perché è una cosa interessante il fatto che possiamo comunque rubare auto e da quello che ho capito anche avere un parco auto interessante ora abbiamo acquistato acquistato accettato la missione di rubare un quadro al 110 ma che cosa succede vediamo se abbiamo modo o no qua non abbiamo modo di acquistare informazioni su il 110 di green street però magari qua c'era qualche info nella nei baker no rompi ruba un quadro non so neanche io perché il gioco ci dà la possibilità vabbè dormiamo osservando dalle finestre i nostri le nostre vittime abbiamo modo di capire quali siano le loro abitudini quindi col tasto centrale del mouse possiamo andare a taggarli e taggandoli possiamo capire quali sono le routine e quindi a quel punto entrare in azione nel momento in cui sappiamo che loro escono di casa ora dovremmo andarcene se me lo lascio a fare ok accendiamo andiamo no al banco dei pegni no andiamo al green view street al momento questo è un gioco che ci terrà impegnate per decine di ore perché come succede anche su house flipper quando il gioco inizia a diventare magari un pochino tra virgolette ripetitivo vengono sbloccate altre cose quindi ci tiene incollato con questo il gioco ha diversi aggiornamenti se ne sono stati fatti diversi quindi potrebbe essere interessante la cosa importantissima che mi ha fatto che falliva una missione è di non lasciare l'auto in mezzo alla strada perché alla fine arrivano le prime segnalazioni e e la polizia proviene a cercarci perché l'auto rallenta tutti allora in questo caso dobbiamo andare al 110 che non è questo il 109 qua continua e non so perché assegnarmi una missione qua possiamo nasconderci nel caso in cui ci vedesse qualcuno e questa è dovrebbe essere la casa quindi a questo punto vedete che già ci tagga il quadro all'interno dobbiamo cercare il modo di entrare in questa casa vediamo se c'è una staccionata rotta o c'è modo di scavalcare no non c'è modo di scavalcare lì però c'è una staccionata rotta quindi magari possiamo entrare dalla casa a fianco ovviamente dobbiamo fare sempre attenzione alla minimappa in basso a sinistra perché ci da il rumore in alto che stiamo facendo e soprattutto se qualcuno ci vede ora questa è il 110 ok la casa è quella giusta ora vediamo a parte anche una musica abbastanza tosta non riesco a salire alle scale proprio un mistero ok possiamo interagire e quindi andare un po' come succede in skyrim il modello di scassinamento è più o meno lo stesso andare a scassinare la porta merda si è rotto niente dobbiamo rompere la finestra niente mi sa che il colpo salta perchè non possiamo ok andiamo via non c'è nessuno in casa sono andato completamente allo sbaglio ascolta e non posso mica portarmelo via così magari è meglio imboscare il grimaldello e il piede di porco non il grimaldello perchè il grimaldello lo abbiamo appena rotto allora adesso quello che si fa è entrare in auto partire selezionando la chiave e ce ne andiamo nell'auto possiamo anche caricare gli oggetti voluminosi quindi abbiamo lo modulo qua ci sono tv 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 catodici non so perchè ma è tutto così allora adesso abbiamo completato la missione dobbiamo prendere un po di esperienza una volta che arriviamo alla fine torniamo a casa insomma è e dobbiamo andare ad acquistare altri grimaldelli perchè non no buono il fatto di averlo rotto è la prima volta onestamente che lo rompo però va bene grimaldello semplice ci costa 20 dollari ne compriamo un paio così almeno siamo a posto allora abbiamo non abbiamo dei lavori quindi in questo caso facciamo una cosa allora andiamo ehm a comprare ehm queste informazioni la routine degli inquilini del 112 non c'è nessuno tra l'una e le 4 perfetto di notte quindi misura di sicurezza della casa ha una serratura semplice perfetto ubicazione del bottino non mi interessa perchè tanto allora adesso non c'è nessuna casa tra l'una e le 4 quindi io adesso non so che ore siano vediamo un po' sono le 3 ehm non possiamo dormiamo fino a luna quindi facciamo passare tutto il giorno e andiamo fino a luna adesso andiamo andiamo al mannaggia non mi ricordo neanche più che casa era ahahahahah 112 ok perfetto 112 vediamo che cosa riusciamo a fare allora in casa non c'è nessuno quindi è gente che lavora di notte presumo quindi accendi l'auto andiamo al 112 no 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 non voglio andare alla junkyard mannaggia non ho voglia di andare alla junkyard ho sbagliato gara di scarica speriamo di fare in tempo greenview street ok poi magari passiamo dal ricettatore e gli vendiamo la roba che troviamo allora ok quindi in questo caso andiamo alla 112 che non ho idea di dove sia ma vedete il modello di guida è molto così insomma si scivola sull'olio ma va bene non non è il punto principale diciamo della simulazione ehm ne stanno uscendo veramente tantissimi di giochi come questo dove dobbiamo simulare un qualcosa dalle cose più belle alle cose diciamo un po' più così assurde la c'è qualcosa vedete che c'è un cono lì sulla mappa quindi in questo caso pare non esserci nessuno noi abbiamo due grimaldelli quindi vediamo se si può entrare dall'aetro sì ma nooo ok l'apriamo lentamente così non facciamo casino la chiudiamo lentamente ci manca un coltello di vetro ci manca un coltello di vetro da subito perfetto chi la porta allora secondo me allora il bottino abbiamo una piccola tv poi mi da fastidio solo una cosa questa musica che fa che sembra dei passi di qualcuno che sta arrivando allora qui c'è ancora la mod di natale quindi apri apri non c'è niente ah no qua possiamo nasconderci perfetto non c'è un piano superiore mi sa di no perché è tutto qui allora vediamo un po' qua c'è una camera mi sa che ci fregheremo niente qua perché sarà pranzo macchina a bere di caffè un tosto a pane una pentola eh l'ubicazione del bottino cassetti qui non c'è nulla no sono scarpe scarpe in sala vabbè allora no mi viene in mente allora su no mi viene in mente in camera qualcosa magari vaso giallo inventario pieno si non c'è più c'è più nulla magari dei soldi qua dentro no vaso grigio e di roba da prendere e non ce n'è tantissimo qui pensavo ci fosse qualche gioiello o qualcosa ma no mi sembrano che ha fatti tutti più o meno lo stesso modo merda è entrato qualcuno è rientrato a casa è rientrato a casa minchia oh 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 mannaggia silenzio adesso eh dobbiamo trovare il modo di uscire no ok sto andando di la adesso ce ne andiamo ho spento la luce ce ne andiamo da qui no sono rientrati tutti a casa da dove cacchio sono entrato io c'è una porta qui no probabilmente no apriamo lentamente chiudiamo lentamente mamma mia c'è così visto c'è così visto c'è così visto sicuramente si saranno accorti del del fatto che è tutto aperto quindi ce ne andiamo anche abbastanza velocemente violazione di amiciglio ma ho visto qualcuno sì ah mi scusi non sicuramente no ma non stavo facendo assolutamente nulla assolutamente arriva la Puuu è stato ferito un pedone ma no carica checkpoint mannaggia sono fatte le quattro di notte niente ricominciamo allora ricominciamo si appariva così ok facciamo una cosa più veloce di prima ah ma si esce anche da lì fantastico qui dov'è che si apriva no di qua così no mannaggia così no come cacchio ok dai veloci facciamo una cosa veloce stavolta stavolta stavane questo soldi ne avete legame legame televisore direi giusto per farvi vedere come funziona potrebbe anche bastare quindi torniamo all'auto e si in effetti guardate in alto sopra la mappa sulla destra sulla sinistra c'è il il tempo quindi direi che ben più di due o tre minuti siamo rimasti all'interno della casa quindi abbiamo cincischiato un po' troppo bene allora a questo punto ce l'avevamo cavata anche bene quindi io ho ragionato un po' alla hitman e ho tentato di diciamo ho detto se urto il pedone pazienza almeno così non potrà dire di averci visto e invece non si può quindi è un gioco politicamente corretto allora adesso prima che arrivino i tizi e ci vedano ci vedano portare via il loro televisore io direi di sì magari non dovevo scaraventargli il televisore ok sulla macchina però vabbè ci ha scalato un euro per avere un dollaro per aver rotto la macchina col televisore rubato a questo punto loro staranno arrivando anzi magari li attendiamo qua e vediamo che arrivano in casa sono le quattro quindi in teoria dalle quattro tornano a casa ecco li vedete che sono entrati almeno credo siano loro molto bene o erano a casa a fianco comunque qualcuno è entrato in casa quindi l'orario era giusto a questo punto andiamo al banco dei pegni e vendiamo la roba intanto abbiamo preso la valutazione spendiamo i punti di abilità valutazione C bonus per l'invisibilità ma abbiamo rubato un po' di roba a questo punto andiamo dalla ricettatore al banco dei pegni che ci valuta la roba vendi la televisione vendo la scatola con contenuto sospetto no macchina per caffè 200 dollari mamma mia una bella macchina di quelle belle bene a questo punto abbiamo fatto abbiamo fatto quello che dovevamo e ora si può ripartire tornare a casa andando avanti col gioco si andranno a sbloccare nuove vie da poter derubare e nuove diciamo tecnologie perché dovremmo rubare anche all'interno di aziende con la sorveglianza con sistemi elettronici quindi ci sarà modo di di evolversi e di evolvere e fare evolvere anche le missioni abilità abbiamo un punto sempre abilità abbiamo le note quindi con tutto quello tutte le famiglie che abbiamo visitato finora con tutte le loro abitudini vedete questo ad esempio i 111 noi sappiamo che avendoli osservati con una missione loro sono fuori in queste ore qui mentre dalle 6 dalle 6 sono in due un uomo e una donna hanno una serratura vecchia ok però tipo dalle 6 uno è fuori fino alle 12 l'altro invece rimane in salotto dalle 6 dalle 6 alle 9 e poi esce pure lui quindi abbiamo questa finestra di 3 ore abbiamo imparato anche questi che sono fuori bene o male in cucina in cucina c'è questo lasso di tempo anche qui di 3 ore mentre qui invece sono altre cose con tutto diciamo la cronologia di quello che abbiamo fatto abbiamo i nostri tutti i nostri oggetti le nostre chiavi possiamo andare a recuperare un sacco di cose che poi possiamo andare a utilizzare mi ricorda un pochino anche PC Building Simulator perché anche lì per quanto sia circoscritto all'assemblaggio di computer si può fare sempre di più abbiamo il deposito poi devo ancora capire bene come funziona ma dovrebbe essere possibile rubare anche le auto quindi come vi avevo detto poterle collezionare quindi avremo modo anche di anche rubare di parti di auto quindi ragazzi questo è Active Simulator esiste anche in versione VR qualora vi interessasse costa doveva costare sui io l'ho trovato in offerta sui 10 euro insomma una cifra del genere quindi non eccessiva dovrebbe ovviamente piacervi non dico rubare ma lo stile di gioco il tipo di gioco ormai di questi simulatori come già detto ce ne sono veramente spuntano come funghi fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete provato avete suggerimenti o sbagliato a dire qualcosa comunicatemelo con sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie a tutti